Questa nuova Clio 4 fiammeggiante che voglio mostrare in tutto il suo splendore, quali sono le sue caratteristiche? Allora, prima di tutto bisogna dire che è un'anteprima assoluta che abbiamo perché il lancio ufficiale della nuova Renault 4 sarà la prossima settimana, esattamente sabato 20 e domenica 21 e quindi qua ad Alba abbiamo l'anteprima assoluta per il mercato. È una macchina che stiamo aspettando da tantissimi anni perché comunque rivoluziona totalmente cos'è il concetto della Renault per quanto riguarda le medio-piccole vetture in commercio in questo momento. Il cliente vuole tecnologia, quindi comunque la tecnologia impone dei sistemi interattivi come per esempio l'AirLink Renault che è un sistema totalmente incollegato via internet. Quindi il cliente ha come un tablet incorporato nella plancia nel quale può scaricare applicazioni, può scaricare news. Tutto touchscreen, completamente multimediale. Abbiamo la radio nel quale comunque il cliente può selezionare le radio principali. Mappa di tutta l'Europa 3D, completamente touchscreen. Da il primo di gennaio ci sarà questo nuovo motore che è appunto un 900 turbo benzina, tre cilindri che chi l'ha provato è rimasto veramente entusiasta. Eppure essendo un 900 di cilindrata ha delle prestazioni veramente molto accattivate. Ecco, mi ha quasi convinto, ma mi chiedo in che fascia di prezzo ci situiamo? Beh, allora, la macchina è una cosa molto, secondo me, intelligente che nella politica Renault è stata fatta. E' quella comunque di avere un lancio molto interessante. Testimonia che è 100 euro in più del modello vecchio. Come mai la scelta di presentare questo nuovo modello in questo contesto e soprattutto l'idea di legarsi ad un locale come la Cache? Invece di portare la gente nei nostri saloni, vogliamo andare dove la gente normalmente si trova. Quindi nei locali di punta delle varie città, perché noi comunque abbiamo parecchie sedi ad Astia, ad Alba e al Benga. E nelle rispettive città ci spostiamo nei locali di tendenza. In questo caso ad Alba siamo qui alla Cache Bar. Andare a trovare la gente, immergersi in questo contesto, diventa molto più rilassato, più naturale. Infatti invito tutti gli amici di Uscire TV a venire qui alla Cache, perché se non sbaglio per ancora due venerdì, quindi parliamo del 19 e del 26 ottobre ancora, sarà presente Renault, sarà presente a Cache, con anche una sorpresa, parliamo di un cocktail particolare, solo per chi verrà in queste due serate.